What's up guys, quel vostro Naked che vi parla ragazzi siamo tornati con il nuovo video Signori miei, dato che è un periodo che il Nakedone si sta focussando sulle mitragliette vorrei riportarvi una mitragliettona nuova ma in realtà vecchia che veramente poco sto vedendo in game ma che in realtà può competere con le prime della classe sia per quanto riguarda le mitragliette di Cold War sia per quanto riguarda le mitragliette di Modern Warfare l'arma preferita del Nakedone perché è quella che raga io nel chedone nazionale ho fatto più kill nel multiplayer ai tempi quando non c'era ancora Warzone ho fatto gli sfacenti, avete già capito raga madonna santo Dios, l'MP7 del Diablo, questa è l'arma del Diablo raga l'MP7 io sono sempre di parte per quanto riguarda l'MP7 perché l'adoro in tutti i suoi aspetti come rato di fuoco, come versatilità, come portata, come anche stabilità perché è un mix di tutto, cioè è forte, ha una buona portata e anche una buona stabilità perché anche da un medio raggio si riesce comunque a fare del danno ovviamente è un'arma creata, studiata per il corto raggio, per il close range e vi dirò di più, adesso poi in questi giorni mi è capitato anche molto di fare gunfight dentro case eccetera, comunque in spazi chiusi il far è fortissimo anche in quegli aspetti lì però mi è capitato di essere squaiato da alcune mitragliette quindi averla in mano in una determinata situazione raga può fare la differenza ovviamente col settaggio mio Classics, ovvero col monoblockone la canna FSS Recon che secondo me è importantissima sulla ripristate perché stabilizza levemente l'arma ma in più porta il danno anche a distanze un pochino più elevate quindi si può usare benissimo anche per il medio, medio inteso fino ai 30 metri, 30-40 metri circa calcio rimosso per dare il boost massimo, entrata, modalità mirino, 60 colpi, anteriore da mercenario è un equilibrio così raga, è veloce appunto giusto, stabile appunto giusto e non trema raga perché concettualmente l'arma deve essere a prescindere affidabile e settata così è un mix un po' di tutto quindi in qualsiasi situazione voi vi trovate ve la cavate sempre egregiamente quindi ovviamente ve la consiglio se volete riprenderla in mano raga non è inutile che stiamo qua a dirci quanto può essere utile e importante quindi ragazzoni miei non mi è rimasto che dirvi di iscrivervi al canalozzo del nakedone nazionale passate dalla piattaforma violaccia se non volete perdervi le sue partite del nakedone e dato che ci siete anche da instagram perché lì verranno caricate le clip quelle più golose voletevi il video ragazzacce miei, bella no c'è solo mia zia no c'è solo mia zia ce l'ha qualunquamente ce l'ha qualunquamente ma dove cazzo stanno tutti raga oh cazzo oh cazzo oh cazzo ti mai nientato bro mamma mia sei un animale minchia conto me li sono inculati tutti brother ho usato la tecnica della salamandra posso tirare raga io tiro il grappolo per baitarli aspettate raga aspettate crackato crackato a terra grappolo grappolo grappolate grappolate raga grappolo che trovi i video su tutti i bastardi grappolo penso sia tenuto la pistola iniziale da un'altra parte porca la puttana mi stava facendo da un'altra parte sono finiti oh vi pusciano di brutto crackato uno crackato uno vi stanno salendo vi stanno salendo vi stanno salendo mi prendo la sotto li prendo la sotto no mi distorcio oh quanti sono brodi ma sono matti questi oh raga sono cazzati neri questi raga puttana misera siete mie salami siete mie salami raga ha crackato uno qua porco zio sono un botto raga siete mie salami sono fatto un cazzo con la granata me ne sono fatti tre raga sono salita la sotto se ne è una passata se ne è una passata arrivo che cazzo piace di farvi mi piace quando sei così carico mi piace ho fatto un montaggio bellissimo di tutte le serate che abbiamo fatto in presenza di questo covid ma non ci sono non ci credo tutti e quattro campanella di sopra si li vedo ma si fa fatta l'era la macchina fatto uno mi fa con la termite del cazzo regate push agite push subito subito fai Nessuno, io ne ho tirato uno, ma... Anch'io ne ho tirato uno, ma un cazzo. Una cassa di muni, per caso? Cassa di muni, no. Una cassa di muni, Lore. No, hai bisogno di muni? No, di stun... Oh, Lore, il seno è dall'altra parte. Sì, sì, è un casino qua, bro. Ci sono altri che sparano, eh? Infatti io ho silenzio di Ernesto. Venito qua, venito qua. Io sto giù, vai. Vai, prima te. Vai, attivalo. Salgo? È qua, è qua, eh. Sì, hai già puntato. Terra col car, terra col car. Crecato, 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 Lore, crecato. Audio, audio. Ho fermato qua? Audio? Questi quanti cazzo ne hanno, scusatemi? L'ho tirato uno, eh, col car. Sì, l'ha arrestato, l'ho già arrestato. L'ho stunnato uno, eh. Vai, un'altra terra. Mi ha fatto un altro. Bro, bro, resta, mi resta. Audio? Arriva, arriva. Qua? Bravissimo, bro. Cambi. Fatevi darne il culo, va. Chiamatemi quando riuscite a farne un win. Pezzi di merda. Tu con il carro. Vai, dammi i soldi, faccio una follia. Tu resta qua, dammi i soldi. Rimani qua, rimani qua. Lo, 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 lo. Lo, lo, lo. Lo, lo, lo. Lei non sa quello che sta facendo. Corona non perdona. L'ostaggio dello Stato. L'ostaggio dello Stato. Ostagio dello Stato, ostaggio dello Stato. Ostaggio dello Stato. Parcheggio perfetto C'è la cassa La cassa C'è la cassa Ah no, è di muoio No Le curazze Avete la maschera? Cazzo Uh, dietro raga, dietro Ho visto Dove sono questi? Qua in zona Sono mociati dietro i roccetti Sì, sì Una terra Ok, uccisione Vado lì raga, devo prendere il coraggio Raga, dobbiamo prendere il siluto prima degli altri Ma loro c'è un leggero là C'è una puttana Ce l'aveva uno questo coglione No, ci siete qua, ci siete qua No, vi... Dove, dove? È lì dove sono io No raga, pensiamo Uno qua, uno qua, uno qua Qua raga sotto di me Fatto porco un zio Esploso questo Esploso questo Sono incazzato nero Sono incazzato nero, merda A terra Sì, sì C'è l'altro, c'è l'altro C'è l'altro, c'è l'altro C'è l'altro, c'è chi Grappolones, grappolones Via A terra, a terra A terra due, a terra due Anche da destra ragazzo No, da là, da là No, da là, da là Gente in casa, ragazzi, a sinistra Sì, tanto... Ush, ma che male Mi ha fatto malissimo No, no, no No, ragazzi, sono bravi questi No, c'è l'altro, ragazzi C'è un altro, ragazzi, c'è un altro Sono safe, sono safe Arrivo, arrivo, arrivo Adesso è uno No, no, raga No, 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 raga No, merda, merda Non ci credo, ragazzi Dimmi dove sono Dimmi dove sono Dimmi dove sono Spottami 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 Non so Mi ha interessato Aspettate, rispottete Rispottete Troppatemi soldi Troppatemi soldi Troppatemi soldi No, raga, vi rispotto Vi rispotto Aspetta che non li vedo Veloce, veloce Veloce Non lo vedo Ma è uno, raga È uno Bravissimi, raga Bravi, raga Bravi Porco due E vi so schiantato Stavo testando La resistenza Del ginocchio Grazie, grazie Grazie